Allora, ringrazio ancora per questa bellissima presentazione che sicuramente è una presentazione di scenario, cioè ci fa capire quello che ci aspetta o forse quello che già sta accadendo. Certo, lo scenario futuro deve essere un po' coniugato con il presente, quindi è giusto alternare un momento di forte accelerazione in avanti con un momento di forte riflessione su quanto sta già accadendo nel mondo delle imprese ed è per questo che può essere utile a questo momento presentare un po' le evidenze della ricerca in una forma un po' diversa dal solito. Di solito quando arriva il ricercatore a presentare le evidenze ammorba la platea per un'ora con le sue considerazioni che sembrano un po' troppo teoriche e mai particolarmente pertinenti e calzanti con la realtà. In questo caso la presentazione la faremo un po' insieme, io che sono stato aiutato anche da Davide Brembati in questo progetto e i protagonisti di alcune delle evidenze che abbiamo analizzato. Per questo invito Daniela Palazzo, Riccardo Bosisio, Mario Migliori, Luca Pantini, Alessandro Ranucci e Gabriele Posinelli a venire qua a farmi compagnia per presentare insieme a me alcune esperienze che in realtà già ci dicono che alcune delle cose che sono state citate nella presentazione precedente già in parte stanno accadendo. Allora, qual è stato il tema di questa ricerca? La ricerca che, ripeto, data ormai sei anni fa aveva l'obiettivo di capire se la digitalizzazione portasse valore oppure no. Se ne parla tanto, abbiamo già visto con la presentazione precedente quale possa essere il valore, questo può essere un valore anche disruptive per citare l'introduzione a questo evento, ma dobbiamo capirlo se questo valore veramente viene portato oppure no. E la ricerca ha cercato di capire questo, ma per capire questo fondamentalmente bisogna fare due passaggi che abbiamo cercato di fare in questa ricerca e che abbiamo sintetizzato molto velocemente in queste slide. Il primo passaggio è che cos'è il valore dell'impresa. Quindi quando parliamo di valore, valore si dice che un termine ambrella può essere utilizzato in infinite occasioni e per infiniti significati, ma per un'impresa che cos'è il valore? Ne abbiamo dato un'interpretazione, se volete, un po' tradizionale e su questa ragioneremo. E quali sono le possibili vie per generare valore? Quali sono i percorsi che le aziende seguono per accrescere il loro valore nel tempo, in maniera sostenibile certamente e quindi nel tempo? E questo è stato il primo elemento di riflessione che abbiamo un po' condiviso nel pool di ricerca congiunto tra Sdabocconi e DocFlow. Dopodiché ci siamo chiesti, benissimo, sappiamo qual è il valore e sappiamo quali possono essere le possibili vie per generarlo, ma in che modo, ed è il secondo punto che trovate nella parte alta della slide, la digitalizzazione può contribuire, se contribuisce, al processo di generazione del valore. Allora, la ricerca è partita da una premessa, che è un po' il primo punto che trovate nella parte bassa della slide, per poi concentrare l'attenzione sulla parte alta. E ai vari testimoni aziendali chiederò proprio quali sono state le loro esperienze di utilizzo della digitalizzazione a supporto del processo di generazione del valore. Primo punto però, che cos'è valore per l'impresa? E, come dicevo prima, ne ho data, diciamo, un'interpretazione, come dire, molto tradizionale, partendo dai ricordi di scuola. Quando io, diciamo, ho frequentato i primi corsi in università, uno, diciamo, di questi corsi, che era il corso di finanza aziendale, mi diceva che il valore di un'impresa era fondamentalmente dato dalla capacità che questa impresa ha di generare flussi di cassa negli anni a venire e, ovviamente, dalla necessità di attualizzare ad oggi questi flussi di cassa. Quindi un'impresa accresce il suo valore se riesce a generare dei flussi di cassa, ma se questi flussi sono sostenibili nel tempo, e quindi è necessario considerare la dimensione del tempo. Questo anche per evitare quello che noi in università chiamiamo la miopia menageriale. Noi, spesso e volentieri, più che ragionare sul futuro, ragioniamo sull'oggi, quindi siamo tutti tesi a portare a casa il fatturato del trimestre e il margine del trimestre, che non a ragionare sui grandi flussi di cassa del futuro. Ma questo non è valore, non è valore sostenibile. Dobbiamo ragionare sul futuro portandoci a casa, appunto, dei flussi di cassa che siano sostenibili. Se questo è vero, le possibili vie del valore sono sostanzialmente due. La prima, che è quella su cui spesso noi insistiamo nei nostri ragionamenti, nelle nostre considerazioni, nel nostro agire quotidiano, che è quella di cercare di avere dei flussi che siano sempre più alti, delle entrate sempre maggiori, delle uscite sempre minori. Abbiamo parlato prima, ho visto prima, nella presentazione, di efficacia, di efficienza. Ecco, voglio lavorare sull'efficienza aziendale per minimizzare i miei costi o le mie uscite, voglio lavorare sull'efficacia aziendale per massimizzare i miei ricavi o le mie entrate. Questa è una possibile via. Ma una seconda via altrettanto importante, che spesso si sottovaluta, è la via del tempo, nel senso che il tempo ha un suo valore finanziario che, diciamo, nella formula di calcolo del valore dell'impresa è dato dal tasso di interesse che viene in qualche modo, diciamo così, che porta in qualche modo ad attualizzare questi flussi. Allora, un modo per generare valore è ridurre quel valore del tempo, ridurre il costo del tempo, ridurre il tasso di interesse. Ma voi sapete meglio di me che per ridurre il tasso di interesse è vitale che oltre a lavorare sull'efficacia, oltre a lavorare sull'efficienza, un'impresa lavori sul suo profilo di rischio. Se un'impresa è meno rischiosa, ha un valore del denaro minore. Se un'impresa è molto rischiosa, dovrà pagare il denaro in maniera decisamente maggiore. Allora, anche questa è una via per generare valore. Forse dobbiamo anche imparare a non ostinarci solo sulla via dell'efficacia e dell'efficienza, ma dobbiamo ragionare anche sulla via del rischio. E allora è attorno a questa semplice considerazione che è nato un po' il progetto di ricerca, che di fatto ragiona su queste due vie. La via prima, quella più tradizionale, quella che era anche emersa nella prima parte del progetto di ricerca, che è la via di generare valore lavorando sull'efficienza o lavorando sull'efficacia. Essere efficienti è una possibile via di generazione del valore, che di fatto vuol dire avere la capacità di garantire un output, un risultato, minimizzando al massimo gli input. E questa può essere una via, che è la via della minimizzazione nell'impiego delle risorse. Aggiungo però a parità di risultato, perché la storia è piena di processi di minimizzazione delle risorse che poi hanno generato dei forti peggioramenti dei risultati aziendali. Se penso ai tagli draconiani che spesso hanno subito le funzioni IT, sicuramente magari abbiamo seguito la via dell'efficienza, ma che poi questo abbia generato un positivo impatto sui risultati aziendali, è tutto da dimostrare. Però sicuramente massimizzare gli output date certe risorse è una via di generazione del valore. E una delle domande che ci siamo fatti è se la digitalizzazione può aiutare in qualche modo allo sviluppo di questa particolare via, a generare efficienza. Ma questa è una via. L'altra via che può essere allineata al concetto di crescita, di sviluppo della presentazione che mi ha preceduto, è la via dell'efficacia. Un'altra possibilità, perché un'impresa aumenti il suo valore, è massimizzare invece il risultato, quindi ottenere la massima qualità, la massima flessibilità. Si è parlato tanto e parleremo tanto di agilità. E questo vuol dire essere efficace. Si è parlato di customer experience. Questo vuol dire avere la capacità di gestire in maniera equilibrata e sostenibile nel tempo la relazione con l'esterno. E questo è l'efficacia, che è la via della massimizzazione dei risultati. Certo, posso ottenere la massima customer loyalty, la massima crescita, la massima customer experience avendo un budget infinito, e non credo che sia nella vostra esperienza il fatto di avere dei budget infiniti. Quindi dobbiamo tentare la via dell'efficacia a parità di risorse impiegate. Queste sono fondamentalmente le due vie. E tradizionalmente, quando si presentano queste due vie, le si presentano in stretta contapposizione fra di loro. Anch'io l'ho fatto in questa slide. Ho parlato di efficienza a patto che l'efficacia non si deteriori oltre un certo livello. Ho parlato di efficacia a patto che l'efficienza non si deteriori oltre un certo livello. E quindi implicitamente ho detto, e questo è sicuramente un paradigma molto tradizionale, che esiste un trade-off tra l'una e l'altra. Allora, la domanda che ci siamo fatti è se la digitalizzazione possa essere utile anche per generare efficacia e non solo per generare efficienza, ma possa essere, e magari poi più avanti nell'incontro lo chiederemo a qualche testimone, anche una via per eliminare, per attenuare il trade-off tra un percorso e l'altro percorso. Ecco, se io lavoro sull'efficacia e l'efficienza e riesco in qualche modo a sfuggire al trade-off fra l'uno e l'altro, sicuramente genero valore. È il valore che viene generato attraverso la massimizzazione dei miei flussi di cassa. Ma poi c'è un'altra via, che è quella che abbiamo legato al concetto di tasso di interesse e di valore del denaro, che è la via del rischio. Ora, parlare di rischio è sempre un po' come dire spaventevole, perché uno ne dà sempre un'accezione negativa, ma saper gestire il profilo di rischio di un'impresa è altrettanto importante che non sapere gestire la capacità di generare valore attraverso efficienza ed efficacia. Certo, forse del rischio dobbiamo dare un'interpretazione, diciamo, un po' ampia, che ho di fatto in parte ritrovato anche nella presentazione che mi ha preceduto. C'è un rischio che è quello che noi normalmente definiamo come tale, il rischio normativo, quando parliamo di risk assessment o di risk management, di fatto parliamo del rischio come il rischio, scusate il bisticcio di parole, di non essere coerenti, di non essere compliant con certe norme, certe procedure, certe regolamentazioni. Allora uno si può chiedere se la digitalizzazione può migliorare la compliance di un'azienda e quindi ridurre un primo tipo di rischio. Il secondo rischio è un rischio di natura strategica, passatemi il termine. Spesso e volentieri c'è un bellissimo testo che dice che i problemi delle imprese non sono mai la definizione di strategie, diciamo, sulle strategie siamo forti tutti, il problema vero delle imprese è l'execution di questa strategia, quindi la capacità di tradurre in concreto la strategia di un'impresa. E spesso è proprio nell'execution che si annida un rischio, che è il rischio di disallineamento tra il mio lavoro quotidiano e le priorità strategiche della mia azienda. Quindi l'azienda ha in mente delle priorità, ma poi ho nel quotidiano le mie unità organizzative, i miei processi fondamentalmente non sono coerenti, sono disallineati rispetto alle priorità strategiche. Allora, l'altra domanda che ci siamo fatti è se la digitalizzazione potesse essere utile per aiutare ad allineare l'agire quotidiano con le priorità strategiche, perché se c'è disallineamento c'è comunque un rischio. Segnaleremo un paio di casi aziendali in cui questo è emerso in maniera molto evidente, perché senza la digitalizzazione io avrei scorso il rischio di non riuscire ad applicarla alla mia strategia, specie se penso di entrare in nuovi business e in nuovi settori. E poi c'è un altro rischio che secondo me è emerso anche molto bene nella presentazione che mi ha preceduto, il rischio che è quello di essere disallineati rispetto alle best practices di settore. Se il settore ha una certa evoluzione, che è quello che è stato descritto prima, ma poi io non mi adeguo, sicuramente magari potrò migliorare al mio interno, ma mi è piaciuta l'espressione, non è detto che il processo di miglioramento interno sia in linea con il processo di miglioramento del contesto. E questo genera un disallineamento che è sicuramente rischioso, è talmente rischioso da poter minare la sostenibilità della stessa impresa, del modello di business di un'impresa. Allora se parliamo di valore dobbiamo avere in mente questi due percorsi, magari un percorso un pochettino più tradizionale, più vissuto all'interno delle imprese, ma dobbiamo ragionare anche su questo secondo percorso, che potrebbe nell'immediato non avere grossi impatti, ma avere invece grossi impatti nel futuro dell'azienda. Se questo è vero, come può la digitalizzazione aiutarci rispetto a questo doppio percorso di creazione del valore? Ma quello che noi abbiamo in qualche modo coniato è stato il termine di ottimizzazione. La digitalizzazione può essere un importante fattore facilitatore per ottimizzare le performance di processo all'interno della mia impresa, di tutti i processi all'interno della mia impresa. E lo può fare, e lo dicono le nostre evidenze, generando maggiore efficacia e quindi migliorando la relazione con i clienti interni ed esterni all'impresa, in alcuni casi aiutando a costruirla questa relazione. Anche qui c'è una testimonianza che mette in evidenza come questa relazione sarebbe stata ingovernabile se non ci fosse stato un processo e un percorso di digitalizzazione. Dall'altra parte, invece, possiamo avere ottimizzazione lavorando sull'efficienza. Certo, io mi ricordo quando siamo partiti dieci anni fa e si diceva che l'avvento dei sistemi documentali avrebbero generato degli impatti enormi sulla riduzione dei costi. E gli impatti enormi che venivano citati erano tendenzialmente due. I risparmi di carta, grazie alla digitalizzazione non si doveva più fare i famosi cinque copie dell'ordine da distribuire in giro per l'azienda, e i risparmi per gli affitti degli archivi che non dovevano più contenere le tonnellate di carta. Già allora, francamente, dicevo, se la marginalità di un'impresa dipende dalla carta e dal costo degli archivi, come dire, sono un po' preoccupato per la sostenibilità di quell'impresa. Nel senso che mi immagino, mi immagino per voi, spero per voi, che le tonnellate di carta non siano mai state così corpose da mettere in buca la redditività della vostra realtà aziendale. Ma poi che cosa è emerso nelle prime ricerche? Che non si risparmiava carta, spesso si sostituiva la fotocopia, la stampa, nel senso che era solo la modalità di generazione della carta che cambiava invece che la quantità di carta che veniva prodotta, e che al costo degli archivi cartacei si sostituiva il costo degli archivi digitali. Per cui di fatto l'impatto era sostanzialmente zero sull'economia di un'impresa. Questo però è sempre stato per noi un modo un po' vecchio di intendere l'efficienza, perché l'efficienza si genera non se risparmio carta, ma se ridisegno i miei processi per risparmiare tempo delle persone, cioè il valore prezioso non è la carta, è il tempo delle persone. E questo è un modo di fare efficienza soprattutto se lo coniugo con la crescita, perché se un'impresa cresce e io risparmio tempo delle persone, riesco ad avviare la via dell'efficienza nella direzione dell'ottimizzazione dei processi. Quindi devo essere, e sembra che questi strumenti possano essere utili nel migliorare la relazione con il cliente, interno o esterno che sia, ma possano anche essere utili nell'ottimizzare le risorse impiegate, se non associamo queste risorse, alla carta e agli archivi, che è un modello sicuramente mai stato all'avanguardia. Ma le esperienze che citeremo sono anche esperienze utili per capire come la digitalizzazione possa migliorare anche il profilo di rischio di un'impresa nell'accezione ampia che abbiamo dato in precedenza, il rischio di business, il rischio normativo e il rischio di sostenibilità nel tempo, date certe condizioni di contesto competitivo. L'altra cosa che è emersa, diciamo, nelle analisi che abbiamo fatto dei vari casi aziendali è che se spesso, teoricamente, queste tre dimensioni sono in trade-off fra di loro, le imprese che abbiamo analizzato sono riuscite normalmente a migliorare e una e l'altra. Ecco perché parliamo di ottimizzazione e non di efficacia e di efficienza e rischio e dell'ottimizzazione come quella che potrebbe essere l'unica via combinata dalle tre vie che abbiamo messo a lucido per la generazione del valore. Allora, se questo è vero in teoria, vediamo se è vero anche in pratica. E quindi proviamo a ripercorrere le varie vie per, diciamo, generare valore attraverso la digitalizzazione con i testimoni aziendali. La prima testimonianza che voglio citare è la testimonianza di Edison che ha usato, diciamo, la digitalizzazione, una vera e propria strategia di digitalizzazione per facilitare l'ingresso in nuovi business, in un nuovo business in particolare. E allora passo la parola a Riccardo Bosisio che è IT Project Manager Competence Center Sistemi Documentali per spiegarci un attimino che cos'è Edison, ma più o meno lo sappiamo tutti, quindi non è necessaria una grande spiegazione e introduzione dell'azienda, invece per rispondere, diciamo, a quelle due domande che ho cercato di mettere a lucido. In che modo gli strumenti di digitalizzazione hanno consentito un più agevole ingresso nel mercato retail, che forse non sarebbe stato possibile senza certi strumenti, e quali sono stati gli elementi che hanno garantito una digitalizzazione di successo con riferimento in particolare a questo ambito. Prego. Mi sentite? Buongiorno a tutti. Rapidissima introduzione su Edison. Edison è una società storica del settore, diciamo, dell'energia, che fino a, diciamo, 2007-2006 basava il proprio modello di business per quanto riguarda la commodity elettricità su due pilastri, la generazione dell'energia con i propri impianti e la vendita ai grossi clienti industriali. Nel 2008 si è deciso di sfruttare l'opportunità che la liberalizzazione del mercato retail metteva a disposizione. Quindi, questo è stato un momento di grosso cambiamento, perché si passava da, diciamo, un'interazione con pochi clienti, grossi clienti, clienti, tra virgolette, in alcuni casi, storici, mettiamola così, un rapporto quindi consolidato, tra virgolette, uno a uno, mettiamola così, ha invece un mercato in cui c'erano tantissimi, molti clienti che con altrettanta facilità con cui entravano nel perimetro Edison potevano anche uscire e il rapporto in qualche maniera non poteva più essere tailor made sul cliente, doveva essere strutturato con dei processi specifici legati anche alle direttive che la normativa, l'autorità per l'energia, imponeva a chi operava in questo settore. Quindi, a fronte di questi cambiamenti, si è deciso di mettere in piedi tutta una serie di processi che si, in qualche maniera, appoggiavano a strumenti di BPM per gestire in maniera efficiente, diciamola così, efficiente, efficace e che minimizzasse il rischio legato alla gestione delle problematiche delle estenazioni legate a questa nuova tipologia di clientela. Dico efficiente perché, in qualche maniera, avendo a che fare con molti clienti, delegando anche all'esterno, quindi a strutture che, in qualche maniera, facevano l'outsourcing di questa gestione, dell'interazione con il cliente, mai, come in questo caso, l'inefficienza generava dei costi. Quindi, il tempo, diciamo, speso per gestire le estenazioni dei clienti era, in qualche maniera, monetizzato da questa società e un'inefficienza, in questi aspetti, comportava degli aggravi di costi lato Edison. Quindi, questo è stato un aspetto fondamentale che abbiamo, in qualche maniera, gestito con gli strumenti che abbiamo, in qualche maniera, messo in piedi in questi anni. Un altro fattore fondamentale su cui abbiamo prestato attenzione è l'efficacia. Avendo a che fare con la clientela che ha un tasso, diciamo, di abbandono abbastanza elevato in un mercato molto competitivo in cui i clienti tanto facilmente arrivano quanto facilmente se ne possono andare, poter gestire rapidamente, in maniera efficace, quelle che sono le segnalazioni, le problematiche, le richieste, sicuramente genera un valore per l'azienda perché riduce l'insoddisfazione del cliente e, in qualche maniera, rende più consolidato il rapporto. E, last but not least, siccome il mercato retail è monitorato dalla autorità per energia, ci sono tutta una serie di normative, regolamentazioni che devono essere rispettate, poter tracciare, poter gestire, incanalare correttamente i processi di lavorazione delle segnalazioni dei clienti, dei reclami, mette a riparo da tutte quelle problematiche legate a, diciamo, mancato rispetto di queste normative. Quindi segnalazioni, multe, verifiche da parte delle autorità competenti al controllo e, oltretutto, dà anche a disposizione una grossa base dati per fornire tutta, diciamo, la documentazione che periodicamente viene richiesta per tutti i controlli di rispetto dei standard di qualità. Fondamentalmente, questi tre aspetti sono stati abilitanti all'entrata in questo nuovo business, altrimenti Edison avrebbe rischiato di intraprendere una strada pericolosa con rischi e costi in qualche maniera non controllabili, sia al tempo, diciamo, di ingresso al mercato sia a tendere con grossi rischi proprio per la sostenibilità di questo business nel mercato retail. E, per quanto riguarda gli aspetti chiave che ci hanno consentito di essere vincenti in questa, diciamo, attività portata avanti negli anni passati, il primo è quello di essere sicuramente reattivi nel seguire le necessità del business, perché l'ambito retail cambia molto, bisogna essere molto reattivi in questo contesto per, in qualche maniera, anticipare la concorrenza. L'anticipo della concorrenza non può non passare dall'adeguamento dei sistemi, nuove offerte, nuovi modelli di business, ad esempio, in tempi recenti abbiamo introdotto uno strumento per monitorare real time i consumi, questo ha comportato tutta una serie di processi gestionali nel back office che in qualche maniera dovevano essere gestiti con i sistemi. e un altro aspetto fondamentale è legato all'efficienza è il tema delle performance. Può sembrare scontato ma avere dei sistemi che in qualche maniera non sono performanti come ci si aspetta genera delle aggravi di costi legati a quelli che sono poi tutti i contratti di outsourcing dei vari operatori di contact center che gestiscono per noi i reclami dei clienti. Fondamentalmente il terzo aspetto ultimo è quello che raggruppa tutte queste necessità è stato quello di lavorare in partnership con il business quindi l'IT visto come partner da parte del business che viene coinvolto in tutti gli aspetti in tutte le opportunità di cambiamento ha permesso di essere sempre come si può dire rapidi efficaci nel fornire delle soluzioni specifiche in questo caso per la gestione delle relazioni con i clienti retail ma è estendibile a tutti gli ambiti questa osservazione. Grazie mille era sicuramente interessante il fatto che la digitalizzazione possa essere uno strumento abilitante ma abilitante la stessa possibilità di rimanere nel business quindi per voi sicuramente si rischia di non poter più sostenere quello che è una scelta fatta in passato su razionali magari abbastanza innovative mettiamo così si butta un po' il cuore oltre l'ostacolo in alcuni casi e se non si fanno poi delle valutazioni non si rimane coi piedi per terra non si pongono le basi per rimanere coi piedi per terra non si riesce poi a portare avanti un modello vincente in questo nuovo business in cui si decide di entrare. Grazie mille un'altra testimonianza direi abbastanza simile sebbene su un processo un po' diverso ma che mette in evidenza come efficacia ed efficienza possano anche non essere percepite in trade off fra di loro è la testimonianza di Cesi che ha fatto della digitalizzazione soprattutto su alcuni processi poi diciamo la domanda che abbiamo preparato riguarda un processo nello specifico ha fatto della digitalizzazione il motore dell'integrazione del coordinamento che rafforza il concetto di processo che può essere interno all'impresa o anche tra l'impresa e una serie di stakeholder esterni per questo io chiedo a Luca Pantini che è IT manager di Cesi quali sono stati principali motivazioni e poi i principali risultati che hanno portato alla digitalizzazione del processo di gestione delle offerte commerciali e quali diciamo gli elementi più rilevanti per condurre diciamo una digitalizzazione di processo che possa essere qualificata di successo buongiorno a tutti diciamo che è Cesi perché comunque magari tanti lo vedete dalla tangenziale est quando siete in coda ma non sapete cosa si fa lì dentro Cesi è una società che è nata 60 anni fa nata come società di ricerca poi dal 2005 c'è stato uno spin off dove è nata l'attuale RSE che appartiene al gestore del mercato elettrico che fa ricerca di sistema e poi invece c'è Cesi S.p.a di quella di cui parliamo oggi che invece è una società sul mercato che vende servizi è composta da tre divisioni la prima è una divisione capital intensive ci sono le pattaforme dove facciamo test di laboratorio su apparecchiature elettromeccaniche una è a Milano gli altri due sono una a Berlino e l'altra a Mannheim e poi ci sono invece altre due divisioni dove facciamo consulenza consulenza una sulla parte del mercato elettrico quindi progettazione di linea ad alta tensione HVDC in corrente continua in corrente alternata Smart Grid e tutto quello che è relativo al mercato elettrico devo ricordare che i principali azionisti sono Enel Eterna oltre ad ABB Siemens e così via di Dicesi e la terza divisione invece è la divisione che si occupa di ambiente e di ingegneria ora sono le due divisioni quelle di consulenza del mercato elettrico e di energia e ambiente sono ovviamente più people intensive sono società che lavorano sulla carta società che cercano di come Cesi sta cercando di aggredire il mercato estero abbiamo aperto due branch una a Dubai l'altra a Rio di prossima apertura anche negli Stati Uniti perché comunque il mercato elettrico in Italia e in Europa purtroppo Ediso non investe più in generazione è nell'uguale Terna anche e di conseguenza bisogna andare all'estero andare sul mercato estero non è semplice vuoi per cultura vuoi per poca conoscenza degli ambienti che si vanno ad affrontare ma c'era un grosso problema il grosso problema dell'integrazione l'integrazione tra noi e le branch estere le persone che ci sono ma non solo un discorso di aumento di ricerche di opportunità ovviamente sul mercato allora a questo punto abbiamo affrontato il discorso della digitalizzazione e della produzione delle offerte commerciali perché per avere contratti bisogna fare le offerte cercare di farle in più in fretta possibile e cercare nel rispetto di quelle che sono le compliance interne comunque Cesi ha un suo codice etico un suo modello 231 con procedure molto regolamentate ma anche nel rispetto di tutte quelle che sono le normative internazionali gaffie e così via anche perché l'ultimo contratto che abbiamo preso ad esempio in Sudan nella linea interconnessione tra Sudan e Kenya non sono mercati facili da affrontare e bisogna rispettare sia nella parte di preparazione dell'offerta ma soprattutto poi nella parte operativa quelle che sono le compliance allora a questo punto abbiamo affrontato questo processo dove che non è complicato non è semplice preparare un'offerta è molto complicato perché non sono servizi standard di conseguenza non è come andare su un catalogo elettronico e scegliere la voce ma è un lavoro fatto di concerto tra quello che è il gruppo dei proposal quello che è il gruppo dei tecnici quello che è legale quello che è l'amministrazione quello che è la parte fiscale e così via e di conseguenza ci serviva uno strumento che ci concertasse questo processo fino a che non siamo partiti si lavorava su file server si lavorava con lo strumento principale del sistema informativo che è la post elettronica piuttosto che dei bellissimi fogli excel al che a questo punto è stato implementato il processo a partire proprio dall'opportunità quindi tutte le opportunità nascono vengono digitalizzate vengono discusse viene affrontata la fase di bid no bid se si bidda si va avanti e si coinvolgono le altre funzioni tecniche fino ad avere il prodotto finale che è l'offerta a volte migliaia di pagine che poi devono comunque essere stampate perché i nostri i prospect comunque vogliono la carta però ci ha permesso di concertare quello che è il lavoro della parte amministrativa tecnica commerciale comprendendo anche le sedi estere senza dover più avere invii di mail piuttosto che continui i contatti dove hai messo il file non lo trovo hai verificato grazie a questo sistema noi riusciamo a capire dove è l'offerta che punto è quando verrà predisposto il task per dal collega tecnico e di conseguenza posso intervenire io per prenderla in carico e portare avanti la mia offerta sicuramente il primo risultato con grossa soddisfazione anche dell'IT devo dire che per una volta tanto su una società che non lavora per il retail dove l'IT ovviamente è sempre triste perché è un costo mentre chi lavora nel retail l'IT è core business in una società come la nostra l'IT deve governare i costi purtroppo non è che può suggerire le opportunità comunque con grossa soddisfazione a settembre siamo partiti all'inizio del 2015 a settembre del 2015 erano riusciti a produrre il doppio delle offerte fatte in tutto il 2014 di conseguenza non pensate a grossi numeri noi in media sono circa 200 offerte 200 offerte l'anno siamo arrivati a 400 a settembre con molta soddisfazione devo dire anche del business andando poi a risparmiare soprattutto in tempi di raccolta di autorizzazioni piuttosto che rispettando sempre avendo bene in mente dove era l'offerta e qual era la data di scadenza per presentarla qual è stata la difficoltà nell'affrontare questo processo è nella cultura delle persone quando si affronta un progetto di questo genere le persone i processone i recuser che partecipano e in parte anche l'IT perché comunque era il nostro primo progetto forse dovessimo rifarlo adesso lo imposteremo in maniera leggermente diversa vogliono riportare in digitale quello che si fa sulla carta e questo ovviamente non crea un progetto di successo di conseguenza è meglio prendere due mesi in più e cercare di fare un discorso di change sui processoner fargli capire confrontarsi anche con con altri le esperienze per impostare bene il progetto devo dire che poi nei successivi che abbiamo fatto perché poi abbiamo proseguito oltre alle offerte commerciali stiamo facendo tutta la gestione dei progetti delle fasi di progetto delle attività di progetto nonché delle compliance dei nostri cantieri è andata molto meglio è andata molto meglio perché le persone hanno capito il valore di questi sistemi hanno capito l'approccio che bisogna avere quando ci si siede intorno a un tavolo e si dice cosa si vuole fare perfetto grazie mille mi veniva da fare una riflessione di fatto stiamo ragionando su processi core delle imprese cioè i lavori di digitalizzazione i percorsi di digitalizzazione che avete fatto riguardano diciamo gli elementi centrali della vostra attività ma una cosa che è emersa diciamo nel progetto di ricerca è che la digitalizzazione si presta anche a dei processi che uno penserebbe laterali rispetto all'attività aziendale laterali sì ma rilevanti soprattutto se questi processi come dire hanno e si caratterizzano per una forte intensità di natura documentale e allora in questo senso calza proprio a pennello il caso Pateon e chiedo in particolare ad Alessandro Ranucci che è IT Director Global Manufacturing dell'azienda in che modo gli strumenti di digitalizzazione sono stati utili per un processo appunto laterale qual è il processo di gestione della documentazione del layout di fabbrica e quali sono i volumi giusto per dare anche un'idea della rilevanza di questo processo nonostante sia un processo accessorio e qual è la criticità di questo processo rispetto alla sostenibilità del business grazie buongiorno mi sentite pronto ok perfetto buongiorno a tutti un paio di parole giusto per introdurre Patreon Patreon è un'azienda multinazionale americana con sede a Rale in North Carolina ha 22 sedi in tutto il mondo e ha come core business essenzialmente la produzione di farmaci per conto terzi in realtà fa parte di una holding recentemente è stata istituita questa holding di tre società Patreon appunto produzione farmaci DSM farmaceutica produzione prodotti chimici e Banner una società un po' più piccola che ha come scopo quello di produrre farmaci in gel proprietari il core business di Patreon è ovviamente la produzione farmaci ma non solo amo dire che in realtà noi vendiamo molto più la qualità del nostro prodotto è quello che ci richiedono le più grandi case farmaceutiche al mondo cioè quella di produrre in qualità il farmaco siamo soggetti continuamente a ispezioni regolatorie di clienti e enti ministeriali dall'FDA americana all'AIFA recentemente peraltro a Monza con successo devo dire quindi siamo diciamo sempre in prima fila per quanto riguarda appunto ispezioni visite e così via per noi è fondamentale mostrare la nostra veste migliore cioè appunto essere in compliance con le regolamentazioni GMP della buona fabbricazione e allo stesso tempo quella di produrre ovviamente documenti che siano il più possibile attendibili validi e che abbiano chiaramente una storia teniamo chiaramente tutta l'archiviazione dei documenti il versioning per noi è fondamentale oltre chiaramente a un aspetto che in alcuni casi sui progetti viene sottovalutato ma è fondamentale ricopre circa il 50% dell'investimento del progetto ossia la convalida del prodotto software non è semplice magari interagire con produttori non è il caso di Dorfloo ovviamente ma che riescano a interpretare correttamente questo aspetto perché di fatto quando un software funziona funziona qual è il problema in realtà dobbiamo dimostrare ai nostri enti regolatori che questo funziona e normalmente lo facciamo attraverso della documentazione ritornando a Patron dicevo Patron ha due sedi in Italia una Monza e una Ferentino provincia di Frosinone entrambe hanno avviato nel 2003 un progetto di digitalizzazione partendo da che cosa sembrerebbe una banalità o qualcosa di dettaglio come diceva Gianluca in realtà abbiamo iniziato con processi legati all'archiviazione dei layout di fabbrica perché perché in realtà gli altri ambiti progetti MES o SAP che avevamo già in essere integrati diciamo a regola avevano in essere già non una digitalizzazione del documento ma quantomeno all'interno di database la possibilità di versionare il prodotto il documento e non necessariamente sentiamo la necessità di doverlo archiviare perché anche in questo caso la carta serviva e noi diamo di fatto la procedura di fabbricazione all'interno dei nostri reparti per essere appunto siglata dagli operatori ancora oggi questa è un'area di ulteriore sviluppo ci siamo quindi focalizzati su quella che era per noi tra virgolette la mappa del tesoro cioè quando arriva l'ente regolatorio chiede ok fateci vedere come siete messi Monza in particolare ha un'esperienza molto importante legata all'eliofilizzazione quindi noi siamo chiaramente il peggio che si possa essere dal punto di vista dei layout zone classificate ingresso materiali è molto complicato mostrarla in modo efficiente efficace soprattutto aggiornarla costantemente a fronte di circa 103 milioni di investimenti negli ultimi 16 anni quindi questo chiaramente evidenzia una grande proliferazione di nuovi reparti cambi eccetera è chiaramente per la nostra ingegneria era ed è stata per la nostra ingegneria un challenge come dicono gli americani abbiamo iniziato con DocFlow un processo che ha portato a sicuramente un progetto di successo partendo da documenti appunto che erano i layout poi ci siamo fatti prendere un po' la mano abbiamo aggiunto addirittura documenti tecnici legati appunto alle macchine e quant'altro coinvolgendo anche la parte di qualità del sito questo è stato sicuramente un quid in più la qualità voleva la carta abbiamo fatto capire loro che era possibile trasferire documenti anche semplicemente utilizzando un portale introducendo workflow all'interno del software firma elettronica e quant'altro questo ha sicuramente portato una serie di vantaggi chiaramente in efficienza chiaramente anche dal punto di vista della vereticità del documento del version come dicevo prima abbiamo sicuramente avuto molte meno deviazioni rispetto a prima questo è un KPI a noi molto caro chiaramente una deviazione di processo comporta oltretutto un lavoro supplettivo da parte della quality assurance abbiamo ridotto drasticamente questi aspetti Pation ha intenzione nel futuro oltretutto di progredire in questo senso perché come si dice la ciccia cioè la quantità di documenti che produciamo in altre aree è molto maggiore rispetto a quella che sono per esempio i nostri 12.000 layout all'interno del sistema considerate che è un batch record cioè una procedura di fabbricazione mediamente pesa 100 pagine considerate moltiplicando per il numero di batch di prodotto che facciamo e produciamo ogni anno moltiplicandolo per tutte le sedi Pation di cui ho fatto menzione prima disboschiamo diverse aree verdi purtroppo vorremmo sicuramente integrarlo per ridurre la quantitativa di carta per chiaramente i driver classici sono riduzione dei costi efficienza e perché no fare in qualche modo cambiare anche un po' la cultura all'interno dell'azienda c'è ancora molta reticenza sul non avere in mano un foglio di carta in alcuni casi cioè il documento viene visto ancora almeno parlo per la mia realtà come un qualcosa di sostanziale ci si sente un po' come Charlie Brown nella sua coperta a volte adesso faccio questi esempi giusto per darvi forse un po' l'idea diciamo che ecco i key factor del successo della nostra esperienza sono stati sicuramente chiarezza negli user requirement far capire molto bene al nostro interlocutore quali fossero le nostre esigenze e andando anche forse oltre a volte la velocità del progetto parliamo di un progetto che in sei mesi si è risolto con grande successo limitate risorse perché parliamo di una risorsa per l'IT una per l'ingegneria neanche full time e però una grossa fetta svolta dal nostro fornitore chiaramente coinvolgimento dell'azienda a tutti i punti di vista facendo capire quali potessero essere i driver di miglioramento questi sono diciamo i punti di forza che ho trovato all'interno del nostro progetto e della nostra esperienza ottimo insospettabile la rilevanza di questo processo per un profano come me credo anche per molte persone qui presenti abbiamo parlato di efficacia abbiamo parlato di efficienza ma abbiamo detto che la terza dimensione diciamo di miglioramento del valore dell'impresa su cui la digitalizzazione può lavorare è la dimensione del rischio e diciamo molte delle testimonianze aziendali dei casi aziendali che abbiamo analizzato hanno lavorato su questo tema ma abbiamo voluto presentare la testimonianza di Banca Popolare di Milano con Mario Migliori responsabile organizzazione metodologie e strutture perché diciamo il comparto bancario è sicuramente un comparto molto regolamentato con una regolamentazione diciamo così anche dinamica e frizzante nel tempo e quindi forse avere una strumentazione che aiuta a formalizzare regole e procedure a manutenerle nel tempo e anche a condividerle perché spesso il problema maggiore è proprio quello della condivisione con i vari utenti era forse più rilevante rispetto agli altri e allora passo la parola a Mario Migliori per spiegarci un po' quali sono le ragioni che hanno portato alla scelta della digitalizzazione e quali vantaggi che avete portato a casa o che state sperimentando grazie buongiorno due parole sulla BPM solo per dirvi che quest'anno stiamo celebrando il centocinquantesimo della nostra fondazione forse avrete visto qualche mese fa l'inserto del Corriere della Sera del venerdì che ha lanciato una raccolta di figurine con album erano centocinquanta personaggi che hanno fatto grande Milano in questo anno abbiamo anche aperto la nostra sala delle colonne alla cittadinanza in modo gratuito per una serie di eventi di convegni che anche l'amministrazione locale ha utilizzato sala delle colonne che era l'antica agenzia della banca dove veniva Giuseppe Verdi che era stato uno dei nostri clienti due parole per dire chi siamo in termini numerici perché magari il brand è molto conosciuto ma poi numericamente stiamo parlando di dati a fine settembre 7.750 persone che lavorano nel gruppo abbiamo una raccolta diretta di 37 miliardi una raccolta indiretta di quasi 33 miliardi impieghi per poco più di 33 miliardi un utile netto a settembre di quest'anno del 2015 post-tass di 213 milioni e un common equity tier one ratio all'11,44% cioè abbondantemente sopra i livelli fissati dal nuovo regolatore europeo l'ultimissima cosa siamo una delle banche popolari oggetto di grande attenzione in questo periodo perché sapete che con un decreto legge le più grandi banche popolari sono chiamate alla trasformazione in SPA e anche noi siamo una cooperativa ancora fino adesso e anche a delle fusioni per acquisire dimensioni più adeguate a reggere le nuove sfide europee detto questo veniamo invece a quello che il professore prima mi diceva allora prima abbiamo sentito parlare di scenari parlare di normativa sembra una cosa un po' grezza un po' brutale però c'è una ricerca ABI di due anni fa che dice che in Italia le normative interne di banche medie quindi non dei grossi colossi unicredite intesa ma di banche medie come le nostre sono stimate in 24.000 pagine di documenti cioè una banca come la nostra mediamente in Italia ha normativa interna per 24.000 pagine uno sproposito pensate che poi le persone devono agire conformemente alle indicazioni che sono state date in queste normative e ci sono situazioni tali per cui non ci sono solo vincoli interni ma i colleghi allo sportello possono anche rispondere penalmente nel non aver osservato scrupolosamente alcune indicazioni quindi stiamo parlando di qualcosa che non è certamente core business ma qualcosa che è estremamente importante all'interno della banca come veniva fatta questa cosa in precedenza scrivere una normativa interna voleva dire interagire con un sacco di persone tutte quelle coinvolte nel processo ottenere da tutti vittimazione bollino blu e imprimatur che quello che era scritto era tutto perfetto ovviamente per arrivare a questo infiniti ricicli commenti sui commenti dei colleghi insomma una situazione che stante le 24.000 pagine di cui parlavo prima era molto difficile da tenere sotto controllo allora noi insieme a dei colleghi di un grande nome della consulenza e ai colleghi di DocFlow abbiamo voluto affrontare il tema cercando di individuare una strumentazione che ci permettesse fondamentalmente di avere collaborazione nella costruzione di questi documenti e nel saper gestire esattamente il ciclo di vita di questi documenti la tracciatura di chi è intervenuto chi ha detto che cosa quando per noi era fondamentale che questo processo non fosse lasciato nelle mani di pochi specialisti ma che diventasse effettivamente frutto di una collaborazione e di una collaborazione che ci permette essere da questo punto di vista per noi erano essenziali due obiettivi uno quello di efficientare questo processo perché non è un processo di business quindi devo averlo al massimo della sua efficienza due gestire la minimizzazione del rischio perché il rischio che alcuni processi core della banca vengano svolti non secondo le modalità con cui sono stati previsti vuoi per disattenzione vuoi per dimenticanza vuoi per non curanza è un rischio estremamente elevato per la banca per la reputazione per i colleghi stessi devo dire che abbiamo ottenuto un risultato estremamente significativo sia dal punto di vista della modalità di produzione interna della normativa sia dal punto di vista della fruibilità di questo prodotto da parte poi dell'utenza quindi dei 7.750 colleghi vi dico solo un altro numero per capirci vengono svolte mediamente 1.600 interrogazioni quotidiane da parte dei colleghi su aspetti punti della normativa interna sono tante 1.600 interrogazioni quotidiane un nota bene un nota bene prima di passare la parola a qualche altro collega mi ritrovo sicuramente nella riflessione che ha fatto prima chi mi ha preceduto sul fatto che l'aspetto culturale l'aspetto di forse Maurizio dopo riprenderà questa cosa ho visto il titolo di avere una mente digitale è qualche cosa che rende rende difficile oggi far camminare tutti allo stesso livello e con lo stesso passo in azienda questa è una difficoltà sicuramente la seconda difficoltà più che una difficoltà è un nota bene che mi permetto di fare è attenzione però a non ingessarsi cioè anche la gestione di un processo di un workflow che guida che semplifica che permette di monitorare gli stati avanzamenti delle cose non deve correre il rischio di avere la presunzione di essere in grado di pensare ex ante tutto quello che ci potrà succedere perché quello che ci potrà succedere tra qualche settimana tra qualche mese è sicuramente oltre quello che noi abbiamo potuto pensare a tavolino ex ante e quindi dobbiamo salvaguardarci una flessibilità che sarà sicuramente un must anche se in partenza potremmo non sapere quale sia e in quale direzione sta andando grazie mille devo dire che essere flessibile con i numeri che tu ci hai dato quindi con le 24.000 pagine le 1600 interrogazioni è una vera sfida da questo punto di vista un'ultima una penultima in realtà considerazione in realtà è già emerso un po' nelle testimonianze che noi abbiamo visto fino adesso ci sono dei contesti in cui la digitalizzazione è più efficace rispetto ad altri ci sono dei processi in cui risulta essere più efficace rispetto ad altri già nei processi che abbiamo analizzato i vettori di questa efficacia l'abbiamo in qualche modo visti ma se li volessimo razionalizzare sono sostanzialmente tre tanto più un processo è interfunzionale tanto più c'è bisogno di un supporto che guidi l'efficacia e l'efficienza e il rischio della gira aziendale tanto più ed è anche l'ultima presentazione che abbiamo visto un processo è ricco di documenti tanto più c'è bisogno di un sistema di digitalizzazione che faccia efficacia efficienza e riduca il profilo di rischio tanto più un processo è disperso territorialmente e fisicamente tanto più c'è bisogno di uno strumento di questo tipo e viene molto bene da questo punto di vista il caso GSE in realtà di GSE abbiamo analizzato veramente tanti processi quindi oggi ci focalizzeremo solo su uno nello specifico e chiedo in particolare a Daniela Palazzo direzione sistemi informativi unità sviluppo applicazioni responsabile del progetto di dematerializzazione quali sono i motivi i fabbisogni che hanno portato GSE alla scelta della digitalizzazione e quali i vantaggi che si sono poi nel concreto sperimentati in particolare per un processo che ho imparato a conoscere come dire è abbastanza complesso ed articolato sicuramente rispecchia i tre principi che abbiamo visto lì qual è quello di gestione del fotovoltaico buongiorno a tutti veramente due parole sul GSE che è il gestore dei servizi energetici è una società interamente controllata dal ministero dello sviluppo economico e si occupa di erogare incentivi per le fonti rinnovabili sicuramente uno dei processi più noti a tutto il paese Italia è gli incentivi legati ai pannelli fotovoltaici perché diciamo sì in azienda abbiamo sentito proprio la necessità di spingerci sempre più verso la dematerializzazione i numeri dovete tener presente che a oggi il GSE è solo per il fotovoltaico abbiamo anche altre fonti di energia come dicevo prima le principali fonti rinnovabili quindi immaginate biomasse bioliquidi e quant'altro e il GSE gestisce questi incentivi incentivi che mediamente durano 15-20 anni quindi una pratica di una persona che si presenta al GSE avrà poi a che fare con il GSE per circa 20 anni i numeri solo del fotovoltaico sono di circa 550.000 pratiche e ogni pratica 20-25 documenti insomma potete immaginare parliamo di oltre 10-15 milioni di documenti solo per quanto afferisce il conto energia e quindi l'ambiente fotovoltaico capite bene che questi numeri hanno necessariamente spinto il GSE quanto prima a dotarsi di strumenti digitali informatizzare il più possibile e l'interlocuzione verso l'esterno quindi i soggetti che si rivolgono al GSE sono rivolti in prima istanza ovviamente in maniera cartacea appena siamo partiti poi attraverso le applicazioni web dove potevano inserire dei dati nonché la documentazione quindi è stato da subito quasi necessario dematerializzare tutto il nostro processo e verso l'esterno quindi l'acquisizione dei documenti e diciamo anche il processo del GSE verso l'esterno quindi diciamo così la conferma dell'erogazione degli incentivi e quindi immaginate tutte le comunicazioni che il GSE per 20 anni deve gestire con questi interlocutori abbiamo praticamente abbattuto quasi completamente la carta all'interno della nostra azienda e abbiamo realizzato ovviamente dei workflow a supporto del business che potessero guidare quindi i nostri colleghi nella valutazione delle pratiche delle istruttorie e quindi che cosa abbiamo guadagnato sicuramente abbiamo guadagnato in efficienza perché immaginate che arrivavano circa 4.000 pratiche al mese c'era uno stuolo di 40 addetti all'ufficio protocollo che erano impegnati a smistare a protocollare quindi a guardare questi documenti a smistarli a fascicolarli eccetera e i camminatori che giravano nell'azienda a portare questi documenti capite bene tutto questo è sicuramente una realtà ingestibile con i numeri che vi ho raccontato se poi questi numeri sono mate gli altri veramente arriviamo a milioni di documenti e stiamo sempre più cercando di digitalizzare anche la comunicazione verso l'esterno prima il GSE inviava delle classiche raccomandate con ricevute di ritorno a oggi stiamo sempre più spingendo verso la PEC purtroppo la PEC è la posta elettronica certificata non è ancora il dominio diciamo così non copre tutti i nostri interlocutori però insomma anche questo è un ulteriore strumento che stiamo mettendo in piedi sempre nell'ottica di migliorare anche la comunicazione verso l'esterno verso i nostri clienti l'altra cosa di cui volevo parlare è che tutto questo ci sta anche permettendo ed è questo un nuovo diciamo così progetto che stiamo portando avanti con DocFlow di centralizzare tutta la documentazione quindi tutti i nostri processi stiamo unificando in un unico archivio grosso documentale tutti i documenti questo ci permetterà sempre più di essere diciamo così efficaci nella valutazione nel reperimento delle informazioni perché anche noi come diceva prima qualche altro interlocutore siamo soggetti a entità giuridiche che vengono dai nostri uffici e ci chiedono documentazione perché magari ci sono delle indagini o comunque dei controlli verso i nostri verso i nostri clienti grazie mille è simpatico sentire parlare dei protocollatori dei camminatori diciamo come una esattamente e invece del digitale che fa fare come dire un salto in avanti rispetto a a questo scenario ecco in tutte le testimonianze che noi abbiamo visto proprio tutte questo quello che è emerso è lo dicevo un po' in premessa è che le imprese che hanno portato a casa i migliori risultati dalla digitalizzazione non sono quelle imprese che hanno diciamo avevano un problema e l'hanno in qualche modo risolto in questo modo ma che avevano in mente un percorso una strategia di digitalizzazione questo è proprio di tutti i testimoni aziendali però ho voluto portare qui il caso auto guido via il cui percorso mai finito di digitalizzazione sempre in itinere di digitalizzazione ci avevano i ricercatori particolarmente colpito e allora passo la parola a Gabriele Pusinelli Chief Information Officer di auto guido via per spiegarci un po' diciamo questo percorso le tappe di questo percorso e i risultati che sono stati conseguiti si auto guido via come qualcuno dei miei colleghi mi ha preceduto anche auto guido via è un'azienda storica nasce nel 1908 e vive sostanzialmente per cento anni in una situazione tranquilla di concessione di servizio di trasporto pubblico passando attraverso anche due guerre mondiali arriviamo però agli inizi degli anni 2000 dove Bassanini fa un decreto che liberalizza il trasporto pubblico in Italia la liberalizzazione del trasporto pubblico ci porta nel giro di due anni a raddoppiare prima e triplicare il numero di dipendenti e ad aumentare il numero di chilometri prodotti e aumentare esponenzialmente il numero di passeggeri trasportati oggi auto guido via opera nel settore del trasporto pubblico ma è una rarità in quanto è l'unica azienda completamente privata in un mercato che è invece gestito e controllato da grandi municipalizzate l'ATM di Milano l'ATAC di Roma GTT a Torino e grandi gruppi privati stranieri che stanno cercando di entrare in un mercato che è molto interessante in ottica di redditività di lungo periodo per darvi due numeri Autoguidovie ha un fatturato di circa 70 milioni di euro e una redditività di 5 milioni di euro all'anno su contratti che durano normalmente 7, 8, 10 anni oggi grandi aree della Lombardia come il Comasco la Bergamasca e il Bresciano sono gestite da aziende di trasporto che sono pubbliche ma controllate da aziende inglesi e di recente tutta la regione toscana è stata messa a gara e il vincitore è una multinazionale francese quindi un mercato in profonda trasformazione noi in questo mercato cerchiamo di farci largo di mantenere alto un po' il nome dell'Italia e soprattutto cerchiamo di farlo con l'innovazione l'innovazione che è stato sempre uno degli elementi caratterizzanti di Autoguidovie nella storia il nostro fondatore ha inventato la Guidovie da cui noi prendiamo il nome che è un mezzo di trasporto su gomma che è stato utilizzato storicamente per le risalite al santuario della Madonna della Guardia e oggi è esposto uno dei modelli della Guidovie al MoMA di New York in ottica di innovazione e il percorso con Doflow inizia dopo la crescita esponenziale che qualche problema organizzativo gestionale ce l'aveva creato però ricollegandomi a quello che diceva il professore prima io in quegli anni credo di aver attuato la strategia su un algoritmo molto complesso a cui ho aggiunto al risparmio della carta dello spazio anche il tempo di spostamento della segretaria che non andava più a prendere il foglio della stampante estremizzo ma in quegli anni l'idea è stata proprio tutto quello che poteva essere smaterializzato smaterializziamolo e quindi abbiamo passato all'archiviazione ottica sostitutiva al libro unico libri contabili registriva movimenti di magazzino giornali di magazzino tutto quello che poteva essere smaterializzato è stato smaterializzato in quest'ottica un po' di risparmio di brevissimo termine la consapevolezza è venuta un po' dopo non mi sono sicuramente sentito in quegli anni un cliente coraggioso che diceva il presidente Petty prima mi sono sentito molto più un cliente coraggioso quando nel 2011 mentre firmavo una ricevuta elettronica dicevo ma allora si può fare e ho collegato uno dei nostri processi principali che è invece il processo sanzionatorio di chi viaggia senza pagare il biglietto noi trasportiamo più o meno 60.000 persone al giorno attività tipicamente italiana è non pagare il biglietto dell'autobus la percentuale di evasione standard è il 7-8% in una regione come la Lombardia dove ha una percentuale di evasione molto bassa c'era un servizio striscia la notizia ieri sera se qualcuno l'ha visto dove i tornelli sono questi ineriti sconosciuti per lo scavalco il trenino o addirittura non funzionano fatto sta che il 7% di evasione su 50.000 passeggeri trasportati noi riusciamo più o meno a prendere il 10% di questo 7% che equivale a avere più o meno 350 verbali giorno che vengono elevati a persone che viaggiano sui nostri autobus senza aver pagato il biglietto il processo era completamente cartaceo e quindi c'era chi faceva il verbale chi prendeva quel verbale e lo in qualche modo lo digitalizzava inseriva i dati nel sistema partiva la società di recupero credito partivano le lettere di comunicazione recupero e quant'altro quindi un processo molto standard direi per quei tempi noi siamo partiti con quella logica che dicevo prima intanto scansioniamo il verbale e mettiamolo lì l'oggetto di aver scansionato il verbale e metterlo lì è diventato però un elemento abilitante per farci ragionare poi sulla rivisitazione di questo processo intanto abbiamo detto ma facciamolo inserire da una società specializzata a Firenze che ci costa la metà e già quello era lo risparmio ma soprattutto ci ha aperto un po' gli occhi dicendo ma sì l'ho trasformato alla fine del percorso perché non trasformarlo all'inizio del percorso e oggi devo dire che abbiamo completamente smaterializzato questo processo è un processo che ha smaterializzato 60.000 verbali non c'è più nessuna coppia cartacea di questo verbale in nessuna parte dell'azienda è un processo completamente smaterializzato che si è ripagato ampiamente in giro di sei mesi le multe emesse sono leggermente diminuite ma la percentuale di incasso è aumentata del 10% la digitalizzazione è diventata un elemento abilitante anche per l'esame del fenomeno sotto altri punti di vista perché il numero delle multe è diminuito non certo perché la gente non sapeva usare il palmare o perché l'accertatore impiegava più tempo a fare le multe ma perché guarda caso le multe fatte sulla carta generavano una previsione all'emissione e ovviamente io non ero in grado di controllare se la multa veniva fatta esattamente sull'autobus o se veniva fatta seduta in poltrona la sera e guadagnavo i miei 6,50 euro ogni multa che staccavo quindi chiaramente il fenomeno dell'evasione non è soltanto un fenomeno generato da chi evadeva il biglietto ma era anche un fenomeno di scarsa lotta all'evasione se io prendo la rubrica del telefono e prendo a caso 10 nomi che ci sono lì dentro invertendo gli indirizzi e levo una multa che non finirà mai pagata ma che ha comunque generato il diritto alla riscossione della parte provvigionale ecco chiudo con un'ultima riflessione sulla strategia digitale e sul futuro di recente abbiamo acquisito una nuova società Belluno che gestisce i trasporti di Belluno in città e Belluno provincia dove il mio approccio rispetto alla mia proprietà è stato beh lì dobbiamo smaterializzare tutto dobbiamo fare il progetto per trasformare tutto in archiviazione ottica sostitutiva e la mia il consiglio di amministrazione della mia proprietà mi dice Gabriele must be cioè non parlarne neanche di queste cose siamo già oltre io ho fatto una riunione poi con DocFlow in cui abbiamo deciso di fare il tagliando un po' le nostre applicazioni perché sono passati sette anni un po' il loro approccio è stato esattamente un po' questo adesso passiamo facciamo l'informatizzazione della PEC abbiamo la nuova versione del software abbiamo il nuovo processo io gli ho detto must be siamo già oltre noi oggi il partner con cui fare tutto il nostro processo di digitalizzazione l'abbiamo scelto otto anni fa il service funziona benissimo io ho avuto tre fermi in otto anni quindi di meno di quattro ore quindi sono delle attività che noi abbiamo completamente delegato a DocFlow abbiamo avuto una visita dell'agenzia delle entrate lì tra i chi mi ascolta c'è il mio direttore amministrativo dove l'agenzia delle entrate ha concluso la visita in un tempo che normalmente è la metà di quello che impiega perché è tutto in archiviazione ottica sostitutiva il verbale finiva ad ogni punto nulla da rilevare nulla da rilevare nulla da rilevare con i complimenti del funzionario dell'agenzia delle entrate quindi quello per me è un dato per scontato che il partner ce l'ho già quello che a me serve oggi è il partner che mi guidi nella strategia digitale che non vorrei che sia ancora quella che ho fatto io otto anni fa quindi togliamo 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 tutta la carta che c'è grazie grazie a te leggendo un po' tra le righe le testimonianze mi viene da dire che le aziende sono sempre un po' oltre rispetto a chi fa ricerca sono un po' oltre dal punto di vista dei risultati se io dovessi cercare di incasellare le testimonianze nella logica dell'efficacia dell'efficienza o del rischio non riuscirei perché alla fine con i lavori che loro hanno fatto sono riusciti a migliorare contemporaneamente efficacia efficienza e rischio migliore dal punto di vista degli ambiti di applicazione quando siamo partiti un po' di anni fa le testimonianze erano una sequenza di ridisegno del ciclo attivo e del ciclo passivo questo era diciamo il mantra che si leggeva sei anni fa ora invece la digitalizzazione si sta espandendo ovunque laddove c'è un documento laddove c'è un'informazione questa può essere trasformata in documento digitale ed è proprio questo se volete un po' l'evidenza che nasce dall'analisi dei casi aziendali bene abbiamo fatto un po' tardi io ringrazierei comunque i testimoni aziendali per il loro contributo vi avevo promesso che dopo la mia testimonianza avreste sentito il bisogno della pausa caffè e la pausa caffè diciamo inizia ora dove abbiamo preso il welcome coffee la comprimiamo in un quarto d'ora venti minuti per recuperare un pochettino il ritardo grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti